L'Italia continua a bruciare nonostante le temperature più miti, c'è sempre la mano dell'uomo alla base dei roghi che si sviluppano sempre maggiori sulle alture in maniera particolare del mezzogiorno. Ultimo in ordine cronologico l'incendio divampato nel parco nazionale del Vesuvio. A bruciare, secondo quanto riferisce il corpo forestale dello Stato, sono stati circa 9 ettari di macchia mediterranea e pineta in un'area impervia della località San Fodoro nel territorio di Torre del Greco. Ci sono volute molte ore di lavoro da parte di due canadere, due ricotteri nazionali, oltre al personale del corpo forestale dello Stato e dell'incendio boschivo, per avere la meglio sul ruogo che si stava allargando ad altre zone. Grazie. 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 Grazie.